Buongiorno a tutte e tutti, sono Shayma Effati, ho 28 anni, sono di Castiglione delle Stiviere, ma ormai adottata a Modena da 7 anni e sono praticante avvocata e autrice. All'età di 13 anni circa, verso la terza media, ho scelto di indossare il velo. Per me in quel momento era importante iniziare a pensare alla mia identità, iniziare a pensare a quella che ero in quel momento. Ho approfondito il velo nell'Islam e in qualche modo mi sono fatta ispirare da quelle che sono le grandi donne nella storia non solo islamica, ma anche araba e quelle del nostro paese in Italia. Ho scelto di indossare il velo perché lo reputavo un atto importante e un atto di libertà. L'ho scelto io, i miei genitori al tempo erano molto contrari, mi dicevano che fossi molto piccola per fare una determinata scelta, eppure io l'ho voluto indossare a tutti i costi. Quando sono cresciuta, man mano che avanzava, diciamo, anno dopo anno, ho iniziato a far riassumere un significato sempre più preciso. Per me è non solo un atto di fede, è un atto di autodeterminazione, perché io ricordo sempre una frase della nostra grande premio Nobel Rita Levi Montalcini che diceva che le donne che hanno cambiato il mondo non hanno voluto mostrare nulla se non la propria intelligenza. Ed è proprio questo, secondo me, la cosa che mi ha fatto scattare la voglia e la determinazione di continuare a indossare il velo. È proprio questo, voler mostrare la mia intelligenza, voler mostrare la mia capacità, le mie competenze, prima ancora del mio aspetto, in una società che certo non sempre facilita il non mostrarsi, soprattutto oggigiorno. Credo che sia importante ricordare come la libertà inizia laddove finisce l'imposizione, perché è proprio la donna che deve scegliere cosa fare o non fare del proprio corpo, e l'unica detentrice è soltanto lei del proprio corpo, ed è lì dove possiamo intendere cos'è la libertà. È certo che oggigiorno spesso si può cadere nella semplificazione di quello che è la libera scelta della donna, in quanto si può propendere per una visione in cui solo lo svestimento può essere reputato una libertà, ma oggigiorno è importante ricordare che ci sono altre forme di femminismo, altre forme di autodeterminazione, volte a far autodeterminare le donne nelle proprie scelte quotidiane e nelle proprie scelte di vita. Il vestirsi, il coprirsi non è sinonimo solo di imposizione, seppur bisogna riconoscere che purtroppo ancora oggi ci sono forme di oppressione verso le donne, forme di oppressione sia da parte degli uomini familiari, ma anche della società nella quale si vive. È importante ricordare che bisogna in qualche modo unire quelle che sono le forze di tante donne che cercano non tanto di liberare le donne dal loro coprirsi, ma cercare di dare loro gli strumenti per sapere cosa vogliono fare della propria vita e chi vogliono essere nella società. E solo così si può davvero permettere a noi donne di decidere sempre del nostro futuro, decidere di cosa fare della nostra vita e decidere sempre in maniera autonoma, responsabile e veramente libera, tutti quanti e tutte quante insieme. Proprio per questo il mio impegno, così come l'impegno di tante donne musulmane italiane nel nostro paese, verte nel far in qualche modo comprendere anche all'interno della comunità musulmana italiana che la nostra presenza è una presenza importante, una presenza che deve essere valorizzata ancora di più. Oggigiorno vediamo tante donne impegnate nel sociale, tante donne impegnate contro la violenza di genere, soprattutto attraverso l'associazionismo. Vediamo ad esempio il progetto Aisha che è nato a Milano da alcune donne, che oggi vede tante donne con competenze diverse tra di loro mettere in piedi quello che è un aiuto concreto alle donne musulmane vittime di violenza maschile contro di loro e soprattutto un progetto volto ad aiutare le donne a prescindere appunto dalla fede, ma ancora di più all'interno della comunità musulmana. Infatti si fanno anche corsi di formazione per l'imam, si fanno corsi di formazione per le assistenti sociali, si portano avanti tante buone pratiche per permettere alle donne di avere un sostegno reale e concreto anche all'interno della comunità musulmana, delle comunità musulmane. È importante ricordare che non c'è soltanto il femminismo occidentale, ma ci sono altre forme di femminismo in varie parti del mondo e anche nel nostro occidentale ci sono diverse forme di femminismo, come quello di matrice islamica, così come altri ancora. È importante anche ribadire, a parer mio, che sicuramente certe fasce di età di donne vanno accompagnate nella propria scelta e nelle proprie visioni di autodeterminazione, perché molto spesso anche all'interno delle comunità islamiche le ragazze musulmane si trovano talvolta in situazioni di disagio, perché non sanno se la propria scelta di indossare il velo possa essere compatibile con una visione di libertà della nostra società. E noi dobbiamo far comprendere che nel momento in cui è una reale, libera, scelta, autodeterminata e personale, non può che essere valorizzata e deve essere valorizzata da tutte e tutti in maniera totale, proprio perché altrimenti non potremo mai sconfiggere davvero quello che è un'imposizione da parte di familiari, un'imposizione maschile che può non solo andare nel verso dell'imposizione, ma può sfociare anche purtroppo nella violenza. Grazie a tutti.